Cantina sociale di Castagnole Monferrato, dove nasce il Ruchè. Anche qui ad Asti, come denunciato recentemente da Striscia la notizia, sono state messe a segno una mezza dozzina di truffe con il trucco della caldaia. Il raggiro è stato stroncato dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato alla magistratura un astigiano 45enne pluri pregiudicato con l'accusa di truffa e sostituzione di persona. Il malvivente, spacciandosi per tecnico dipendente di una nota ditta di impiantistica per riscaldamento, si è messo in contatto con i proprietari di case unifamiliari, preferibilmente abitate da anziani. Con scuse varie si faceva anticipare denaro per presunti lavori alle caldaie che poi immancabilmente non eseguiva. È stata la stessa ditta citata più volte dal truffatore a scoprire il raggiro e a far intervenire la Guardia di Finanza che ha abilmente incastrato l'autore del raggiro che ora rischia fino a tre anni di reclusione. E a Cortandone d'Asti, ieri nel tardo pomeriggio, un pensionato 72enne è stato salvato dai vigili del fuoco. Si era calato con una scala in una cisterna per la raccolta dell'acqua piovana per salvare il suo gattino finito in trappola accidentalmente. Recuperato il micino, la scala è però scivolata e l'uomo è rimasto anche egli intrappolato nella profonda cisterna. Fortunatamente l'acqua gli arrivava solo alla cintola e la moglie, sentite le invocazioni d'aiuto, ha chiamato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti, mettendo in salvo sia il pensionato che il gattino. E la scorsa notte il Caglianetto ha conquistato la Coppa Europa di Pallatamburello. Sullo sferisterio di casa, in un avvincente match, ha prevalso per 13 a 6 sul Solferino. Per la squadra di Patronfassio si tratta del nono titolo continentale, nonché del primo importante trofeo conquistato in questa stagione. È stata proprio la società Castellalferese, in collaborazione con la Federazione Nazionale, ad organizzare impeccabilmente questa dodicesima edizione della Coppa Europa, a cui hanno anche preso parte le squadre francesi del Montarnot e del Casull d'Oro. Durante la due giorni astigiana si è anche disputata la Coppa Europa Femminile. Nella finale, dopo aver eliminato le compagini transalpine del Casull d'Oro e del Cornonsec, il sabbionara Trentino Team ha battuto di misura per 13 a 11 le astigiane della Piese, conquistando la Coppa Europa Femminile. Grande soddisfazione da parte del patron del Caglianetto, Alberto Fassio. Abbiamo assistito a due giorni molto intensi di tamburello ed in conclusione non potevamo aspettarci due partite più belle. Sicuramente il Caglianetto puntava a conquistare questo titolo e siamo felici di averlo fatto sul nostro campo. Mi complimento con tutti i giocatori, con le società francesi, per la positiva atmosfera che si è potuta respirare. Un bel successo dunque, con un ottimo riscontro di pubblico e l'attenzione dimostrata verso la Coppa Europa, anche dalle autorità territoriali che hanno partecipato costantemente alla manifestazione. Questo è molto importante per noi, ha concluso il Presidente, per chi ama lo sport del tamburello. L'Annunziata a Sant'Anna ha conquistato il Paglio dei Borghi di Costigliole d'Asti nella finalissima di sabato del torneo di calcio a 7 di fronte ad almeno mille persone, ha prevalso sul borgo Boglietto-Galletto per 5 a 2. Terzo classificato il borgo San Michele-San Carlo di Diego Fuser, quarto il sempre sorprendente Salerio che ieri sera, nella serata conclusiva, ha anche ricevuto il premio del Borgo che ha meglio interpretato lo spirito del Paglio. Fra i premi speciali il trofeo per il capocannoniere è andato a Karim Benzema, medana dell'Annunziata. Il miglior portiere invece è stato Gianluca Solaro del Santa Margherita che si è aggiudicato il trofeo dedicato alla memoria del dottor Francesco Manfredi. Premio Fair Play per il San Rocco, per i gol più spettacolari è stato invece premiato il Borgo Centro mentre la Coppa Disciplina è andata al Santa Margherita. Per l'Annunziata Sant'Anna si tratta del terzo Paglio vinto consecutivamente, un primato che va ad eguagliare nell'Albo d'Oro il record del Bionzo. Sentiamo. Credo che sia una delle manifestazioni sportive più belle degli ultimi anni che Costiglioli abbia visto grazie alla polisportiva, grazie alla passione di tutti i borghigiani e con una partecipazione di pubblico che ha dell'incredibile, neanche le squadre di serie C2 hanno mille spettatori per sera come si è verificato anche nell'edizione di quest'anno. Fino all'anno scorso tutti parlavano di molta fortuna, invece quest'anno sono i numeri a parlare e il terzo Paglio consecutivo abbiamo vinto 20 partite consecutive nel giro di tre anni quindi penso che adesso invece di fare tante parole sono i numeri a dare risposta a quello che dicevano. Bella soddisfazione, tre anni di seguito il primo anno è andato bene, il secondo abbiamo ripetuto quest'anno è andato bene, è difficile, è una bella squadra la nostra, è difficile, ci proviamo un altro anno di nuovo. E con questo per oggi qui da Asti è tutto, grazie come sempre per l'attenzione, arrivederci alle prossime edizioni.